Poco più di un anno fa si dissolveva il sogno olimpico dell'Ital Volley femminile malmenata dalla Serbia della Boscovic. A settembre, nella finale giocata proprio in casa delle avversarie, la rivincita azzurra con la conquista del titolo europeo. L'unica differenza tra Tokyo e Belgrado era nella regia passata nelle mani di Alessia Orro. Il gruppo è sempre questo, lavoriamo tanto insieme, è cambiato solo il fatto che giochi titolare e prima no. Sono felice comunque di aver aiutato la squadra e di continuare ad aiutarla per raggiungere gli obiettivi. Adesso la palleggiatrice di Narbolia è in ritiro con la nazionale per preparare i campionati mondiali in programma dal 23 settembre al 15 ottobre in Olanda e Polonia. Dopo la vittoria di luglio in Nations League le aspettative si sono alzate, le azzurre sono tra le favorite per la vittoria finale. Ci sono molte squadre comunque forti come gli Stati Uniti, il Brasile, la Cina, la Serbia. Alessia porta sempre con sé la sua Sardegna, anche se la pallavolo nell'isola ha ancora tanta strada da fare. Non c'è una società in Serie A e questo lo sappiamo, non è cambiato il nodo in questi anni. Le strutture sono alla fine sempre tutte uguali, però comunque a livello di organizzazione vedo un grande impegno. Quest'anno ci sarà la Supercoppa Maschile a Cagliari. La Sardegna cerca di invogliare il mondo della pallavolo, essere seguito, essere praticato.